Salve, ciao ragazzi, allora cercherò di essere il più breve possibile, so che sembra utopia quando dico una roba del genere ma il covid sta iniziando a farmi un po' dannare, inizio ad avere dei dolori muscolari e anche stare a sedere un po' un problema e soprattutto a parlare dato che ho un po' di mal di gola e faccio un po' fatica a tirare fuori le parole però, volevo assolutamente entrare qui a parlare insieme a voi di alcune cose perché voglio precisare, voglio precisare alcune cose che stanno venendo fuori in questi momenti e collegarmi anche alle parole di Gabriele Gravina che è il presidente della FIGC che oggi ha parlato proprio di quello che riguarda il caso Juventus e per farlo voglio utilizzare un articolo che ho letto su Numero 10, applicazione con la quale sto lavorando e collaborando, vi invito a scaricarla anche perché ieri ho fatto uscire un video proprio su Numero 10, esclusivo, lo trovate solo lì in cui parlo di alcuni ex calciatori della Juventus che secondo me potrebbero entrare all'interno della dirigenza quindi dato che qualcuno mi ha chiesto anche nei commenti ci tengo a ribadirlo anche qui, scaricate Numero 10 perché lì scrivo articoli e creo contenuti esclusivi soltanto per applicazione quindi scaricatela gratuitamente dal link che trovate in descrizione e quindi eccoci qua con le parole di Gravina, sempre articolo Numero 10 e dice Gabriele Gravina, presidente della Federazione Italiana Giocco Calcio, ha parlato dell'inchiesta che c'è sul CD e l'ex CDA della Juventus e le sue dichiarazioni sono le seguenti Abbiamo aperto un fascicolo per verificare l'esistenza di eventuali reati, sono contrario ai linciaggi di piazza, stiamo calmi perché temo che quel problema possa riguardare anche altri soggetti Tebas, pensi alla Liga Allora, cerchiamo di analizzare un attimo queste parole che sembrano scontate ma non lo sono, nel senso che la macchina del fango è partita Ragazzi, la macchina del fango è assolutamente partita nei confronti della Juventus E attenzione, questo non significa che io ritenga la Juventus innocente, l'ho già detto anche ieri, lo torno a ribadire perché nei commenti questo ritornello sta saltando fuori Io non vi sto dicendo che la Juventus è innocente, non vi sto dicendo che Andrea Agnelli è innocente, non vi sto dicendo che non siano stati manipolati alcuni bilanci o fatte delle cose che non dovevano essere fatte Io non vi sto assolutamente dicendo questo Ma Gravina dice, giustamente, stiamo calmi perché non abbiamo ancora idea di quello che è accaduto Ci dovrà essere prima un processo Si sa che qualcosa non è andato come doveva andare e quindi si sta investigando E attenzione perché quel problema può riguardare anche altri soggetti e quindi anche altre squadre Oggi io ho detto questa cosa, nei commenti si è scatenato un po' di disordine da parte di chi ti fa altre squadre Ragazzi, mi dispiace, qualcuno mi ha detto, eh no, per la Juve è peggio perché è quotato in borsa Io non credo che abbiate capito la situazione Cioè, ci sono due diversi piani paralleli, quello sportivo e quello penale Sotto il piano penale, allora Agnelli, Nedved, arriva bene, lo stesso Paratici Che sono stati coinvolti nella questione, quindi lato borsa, quindi lato penale È grave perché stiamo parlando eventualmente, ipoteticamente, di un'alterazione di bilancio Che va a ripercuotersi sulla borsa, quindi sulla finanza E va a riguardare le persone Le persone Fine Stop Se invece si tratta del discorso stipendi, dato che a quanto pare la Juventus Questa è l'accusa, poi bisognerà vedere se sarà fondata La Juventus in quell'anno in cui aveva posticipato gli stipendi Aveva annullato, tagliato gli stipendi in età Covid A quanto pare non era uno, ma erano quattro Anzi, non erano quattro, ma era uno Come dichiarato, e quindi c'era questa C'è questa accusa qui Unito al discorso della carta di Ronaldo Questa è l'accusa, non c'è ancora stato un processo C'è un'indagine in corso E potrebbe coinvolgere anche altre parti Perché ci sono altre squadre Che gli stipendi non li avevano pagati Avevano avuto dei problemi, avevano fatto delle carte Con i tesserati per capire come andavano le cose Poi è ovvio Che lato penale Dato che la Juventus è quotata in borsa Possano esserci delle ripercussioni su chi ha agito in quella maniera Ma lato sportivo, che è quello di cui si occupa gravine la FIGC È un regolamento sportivo Quindi se l'ha fatta una squadra iscritta in borsa L'ha fatta una squadra non iscritta in borsa La punizione sarà la medesima a livello sportivo A livello penale invece ci sarà una penalizzazione Ci saranno puniti quelli che hanno agito contro la legge Non la legge sportiva, la legge ordinaria Quella che dobbiamo rispettare tutti noi all'interno della nostra vita E concludo perché questo articolo dice Gravina con queste parole ha praticamente aperto a possibili scenari più che allarmanti Delle emissioni di Agnelli Nervi ed arriva bene Il caso Bianconero è tornato centrale È ovvio È ovvio perché questa cosa sarà soltanto la cima dell'iceberg Perché se la Juve verrà punita per questa roba del discorso stipendi Dovranno controllare tutte le squadre Perché ci sono state altre squadre che hanno fatto delle manovre simili Magari non uguali o magari anche peggiori di quella della Juventus Se poi dobbiamo andare sotto il punto di vista sportivo E quindi possiamo incorrere in penalizzazioni per degli anni Nei quali non abbiamo seguita la lettera al regolamento sportivo della FGC Però dopo la Juve non è l'unica E te lo dice il presidente Gravina Non te lo dico io Te lo dice il presidente Gravina Poi sotto il punto di vista penale Invece c'è un altro discorso Proprio perché la Juventus è quotata in borsa Ma sono due discorsi diversi Non è che la Juve viene penalizzata O retrocessa Torno a dire retrocessa Perché è quotata in borsa Cioè non confondiamo le due cose Non confondiamo le due cose La Juventus da come ben sappiamo Non dovrebbe avere nessuna ripercussione su questa vicenda Anche se non sarà semplice pensare solo al campo per i bianconeri Infatti la mia paura è che possa esserci una ripercussione sul campo Non per una punizione Non per un tribunale Ma per la macchina del fango che è partita Perché oggi sta venendo fuori delle intercettazioni telefoniche Che sono totalmente ininfluenti nel discorso In cui si dicono cose risapute da tempo Da mesi, da anni Che non vanno a cambiare niente All'interno del discorso E nel quale addirittura non vengono nemmeno fatti i nomi Un dirigente indagato Chi? Boh Cosa dice? Boh non si sa Contestualizzato Decontestualizzato Soltanto per buttare merda Perché in questo momento tutto fa brodo In questo momento tutto nel calderone va a creare un brodo La macchina del fango è partita Cercate di non farvi trascinare In ogni cosa che viene detta E anzi a tal proposito Dato che anche in questo caso viene ricomunicato Che la Juventus difficilmente avrà delle ripercussioni O se ci saranno delle ripercussioni per la Juve Poi bisognerà aprire un fascicolo per l'intera Serie A Come detto da Gravina Non da Luca Toselli Da Gabriele Gravina Voglio parlarvi anche di questo articolo Di Paolo Aghemo di Sky Che secondo me è molto molto interessante Che spiega anche un po' la situazione Allora secondo gli inquirenti c'è questa differenza No? Del bilancio della Juventus Sanno 2019 La procura dice meno 84 La Juventus dice meno 39 E così via E c'è una differenza di 205 milioni Tra quello che ha dichiarato la Juventus E quello che invece si aspettava alla procura E infatti adesso qua si andrà a scavare Per cercare di capire Se questi 205 milioni Sono effettivamente scomparsi da qualche parte Oppure no Perché è ovvio che se la Juventus dice I calciatori hanno rinunciato a quattro mensilità E in realtà hanno rinunciato a una sola mensilità Le tre mensilità dove sono finite Sono stati messi dei soldi in nero Sono stati fatti sparire dei soldi E questa è la discussione E questa qui è la discussione Ma non si sta parlando della difficoltà della Juventus A iscriversi al campionato La Juventus ha fatto due aumenti di capitale Quasi un miliardo Quasi un miliardo di euro Al campionato poteva iscriversi Questo è un altro discorso Grave perché la Juventus è quotata in borsa Ma diventa grave per le persone Non per la squadra Non per il regolamento sportivo O almeno con i dati che abbiamo a disposizione oggi Questa è la situazione Poi se uscirà che hanno fatto delle altre magagne Delle altre porcate Se queste verranno confermate Allora io dopo le alzo le mani ragazzi Non posso prevedere il futuro Io vi dico quello che in questo momento C'è in ballo C'è in gioco Tutti questi titoloni La Juve in B La Juve in C La Juve radiata La Juve penalizzata Ad oggi non c'è niente Ad oggi non c'è nulla Quali sono i reati contestati? Falsi comunicazioni sociali Ostacolo all'esercizio delle funzioni di autorità Bla 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 Il comunicato sugli stipendi durante la pandemia Diceva Juventus L'intesa prevede la riduzione dei compensi Per un importo pari alle mensibilità Di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 I quattro mesi di cui vi stavo dicendo adesso Nelle prossime settimane Saranno perfezionati gli accordi individuati con i tesserati Come richiesto alle normative vigenti Gli effetti economici e finanziari Derivate dall'intesa raggiunta Sono positivi per circa 90 milioni di euro Sull'esercizio 19-20 E quindi la Juventus dice Abbiamo salvato 90 milioni di euro E quanto pare invece è stato soltanto uno La mensilità non riconosciuta E le altre tre Boh, a quanto pare È quello che si sta cercando di capire Se sarà effettivamente così E tra l'altro attenzione Che potrebbero essere coinvolti anche i calciatori In questo caso Perché rischerebbero delle squalifiche Che non è simpatico Secondo gli inquirenti Da questo comunicato Si evinceva che non sarebbero state pagate Quattro mensilità Per un totale di 90 milioni di euro Mentre in realtà I calciatori avrebbero rinunciato Soltanto una mensilità Per questo IPM Ipotizzano a carico di Agnelli Nedved Paratici Gervasio E Re Il reato di manipolazione del mercato Per aver diffuso notizie false Ponendo in essere operazioni simulate O altri artifici concretamente Idoni a provocare Una sensibile alterazione Del prezzo di strumenti finanziari In tanti Agnelli non c'è più Nedved non c'è più Paratici non c'è più Gervasi non c'è più Re non c'è più Quella che era stata Delineata come nuova Juventus Non c'è più Cosa rischiano gli indagati? Dalla multa Alla reclusione Il presidente Agnelli Nedved e Paratici Sono indagati per tutte e quattro Le fatti specie di reato Arriva bene Soltanto per il bilancio dopo Perché è arrivato dopo Ok E quindi con un falso in bilancio Si rischia 3-8 anni di reclusione Manipolazione del mercato Si rischia da 1 a 6 Più una multa Reato ed ostacolo esercizio Si rischia una reclusione Da 1 a 4 Rechierazione fraudolenta Reclusione da 4 a 8 Capite bene che Gli indagati Le persone Dal punto di vista penale È certo che rischiano È una cosa grave Se confermata quella che è accaduta È una cosa molto grave E sono loro a farle veci Perché era loro all'interno Dell'organigramma Juventus La società Juventus Cosa rischia? La Juventus È indagata In qualità Di persona giuridica È una società Persona giuridica Juventus Football Club SPA L'ipotesi di reato È quella dell'articolo 2 525 Del bla 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 Riferita alla responsabilità Dell'ente Ai reati tributari Agli abusi di mercati Se riconosciuti I reati tributari Si applica La sanzione pecuniaria Fino a 500 quote Elevabili Fino a un terzo Per gli abusi di mercato Si applica all'ente La sanzione pecuniaria Da 400 a 1000 quote La quota In sanzione pecuniaria È una singola parte La montata della sanzione L'importo Una singola quota Vada a un minimo Di 258 Massimo di 1549 euro Quindi In base a quello Che eventualmente Perché queste sono Le punizioni Se mai si arriverà A capire che le cose Sono andate male La società Juventus Rischia una multa Un'ammenda Dovrà pagare Cash Denaro Contanti Quanto Non lo sappiamo Perché c'è un range Un range Che va da X a Y Con un range Che parte da X a Y A seconda della quota Quindi non sappiamo Non lo possiamo sapere oggi Ci sarà un processo Eventualmente E se la Juventus Verrà riconosciuta Come colpevole Ci sarà da pagare Se la Juventus Verrà riconosciuta Come colpevoli Agnelli Nedved Paratici Arriva bene Potrebbero finire In carcere È per questo Che si sono Dimessi Io Forse Non parlo italiano Per quella frangia Di persone Che sta continuando A dire che invece Il fatto che si sono dimessi È perché loro Si ritengono colpevoli No Dio Santo Il Signore No Non è per quello Si sono dimessi Perché c'è da presentare Un bilancio Che è stato rinviato Due volte Che in questo momento Non può venire approvato Perché Consob Continua a dire Quel bilancio Non è approvabile Non è giusto Non sta seguendo Le linee guida Che dovrebbe avere E allora La Juventus Non vuole più andare Muro contro muro Vuole risolvere questa situazione E rimanendo all'interno Del CDA della Juventus Queste persone Avrebbero rischiato Di più Perché avrebbero Ancora una volta Testimoniato Che quelle cose Invece andavano bene Attenzione Non è che adesso Se ne ha le mani E quindi non c'entra più niente Paratici Non c'era già più da un po' Però Adesso ci sarà un processo E potrebbero esserci Nel caso Ipoteticamente Delle pene Minori Chissà Poi ognuno la ragiona Come vuole Però Star qui A dire che la Juventus Verrà penalizzata Che la Juventus Verrà retrocessa Che la Juventus È l'unica All'interno di questo discorso Legato Agli stipendi Che è la cosa Che potrebbe L'unica cosa Che potrebbe Creare una penalizzazione All'interno del campionato italiano È quella lì degli stipendi E ci sono altre squadre coinvolte E te lo dice Il stesso presidente Gravina Ragazzi Poi ognuno è libero Di dire quello che vuole Però I fatti parlano chiaro I fatti sono questi Poi si uscirà Dell'altra roba Non ho idea Se poi Eventualmente Durante un processo Vorremmo cambiare E dire Eh no Però dato che c'è stato Un reato eventualmente Dal punto di vista della borsa Puniamoli anche A livello sportivo Così A caso Senza senso Che vi devo dire Poi Quello è un altro discorso Se volete dirmi Che la Juventus Non aveva i soldi Per iscriversi al campionato E quindi Eventualmente Questi 205 milioni di euro Sono stati necessari Per iscriversi al campionato Perché se no Diversamente La Juve non ci sarebbe riuscita Se tutto ipoteticamente Nel fatto che In questi 4 anni Questi 205 milioni di euro Siano davvero scomparsi Allora sì Allora merita La retrocessione Diversamente Non so più Che cosa dirvi Io sto Cercando di spiegare Io non ne so niente Non ne so niente Non voglio vendervi Questa roba per vera Così come non voglio Che mi vendiate per vera Che la Juventus Verrà retrocessa Mi sto affidando Alle ricostruzioni Di chi sicuramente Sa di cosa sta parlando E di chi anche Magari più informazioni Rispetto Al semplice utente Che si sveglia la mattina E sa Che le cose andranno In quella direzione Stiamo navigando In un mare difficile In un mare difficile Perché le cose sono difficili In questo momento Da capire Da ascoltare Da Da assimilare Però cerchiamo Di non farci Sporcare Ancora di più Da questa macchina Del fango Perché veramente Si sta attivando Si è attivata Ci sono delle testate Senza ritegno Che stanno continuando A pubblicare Intercettazioni Che Che sono vecchie Che Che magari Non hanno nemmeno risalto Soltanto per dire Eh visto che Allora la Juve Le intercettazioni Sì ma Dai Su Ci siamo i bravi Allora la Juve